Mi chiamo Tahar Lamri, vengo dall'Algeria, sono arrivato in Italia e precisamente a Ravenna nel 1987, quindi sono più di 20 anni che abito a Ravenna, faccio lo scrittore, collaboro con il settimanale internazionale e organizzo eventi a Ravenna, il festival delle culture, incontri pubblici, incontri sulla letteratura e sulla cultura in generale. Diciamo che Ravenna si pone in una posizione verso le varie espressioni artistiche e culturali, si pone in una maniera curiosa, un po' distante e un po' curiosa, per essere un pochettino precisi. Le culture in generale, le culture che sono presenti a Ravenna e che evolvono a Ravenna e lo possiamo anche osservare nelle scuole, nelle varie sedi dove si esprime in un certo senso la cultura del diverso. A Ravenna è sorto un problema attorno alla zona della stazione e la risposta della città, la risposta della città come amministrazione comunale ma anche come residenti della zona è stata una risposta quasi unica nel suo genere in Italia perché è stata una risposta un po' con ordinanze e repressione giustamente e cercare di correggere il degrado in una maniera repressiva ma nello stesso momento è stato attivato tutto un lavoro con città attiva che è un lavoro di mediazione culturale, è stata portata proprio la cultura nei giardini attorno alla stazione e quindi questo è emblematico in sé perché dà la misura di come Ravenna città dà delle risposte originali e delle risposte che sono sue e che corrispondono comunque a, come vede la città, la diversità. Le espressioni algerine, romene, albanesi, marocchine, nigeriane e quello che è certo possono diventare parte integrante della dinamica culturale della città e lo stanno già diventando perché c'è una generazione che è nata qui una generazione di italiani, chiamiamoli così, con il permesso di soggiorno che invece loro evolvono nella società ovviamente non portano la dinamica del rumeno o del nigeriano o del marocchino ma portano una dinamica nuova, completamente diversa che è diversa dai genitori dei ragazzi italiani ed è diversa dai genitori dei ragazzi non italiani e quindi è già in atto questa dinamica e quindi nessuno chiede che un rumeno porti la danza rumena e che la danza rumena diventi parte integrante della dinamica culturale Ravennate non sarebbe giusto, non sarebbe autentico ma c'è una generazione nuova che non è portatrice di cultura ma produttrice di cultura e che sta producendo una cultura nuova nella quale si fondono tutte queste dinamiche quindi è come la cucina, questi ragazzi portano gli ingredienti dosati in un modo giusto, portano a una cultura, a una dinamica culturale se vogliamo nuova e a quel momento lì la chiameremo Ravennate perché sarà una produzione del territorio cosa che succede a Berlino, a Londra, sta succedendo in tutto il mondo cosa penso della candidatura di Ravenna Capitale della Cultura? penso tutto il bene possibile spero che Ravenna sia selezionata tutti i numeri per esserlo ci sono tantissimi giovani, ci sono tantissimi prima di tutto Ravennati e non Ravennati che producono cultura basta pensare al teatro, il teatro a Ravenna è vivo e fra l'altro un aneddoto Ravenna deve la sua rinascita teatrale a un'intuizione del teatro delle Albe che Marco Martinelli, regista delle Albe, è andato in spiaggia quando ha visto che arrivavano i primi senegalesi qui si parla di più di vent'anni fa è andato in spiaggia e ha convinto dei senegalesi a diventare attori e quindi questi alla fine hanno accettato con dolore, si sono messi in questione sia gli italiani sia gli italiani della compagnia, voglio dire sia i senegalesi e hanno fatto una compagnia teatrale che ha avuto grandissimo successo grandissima risonanza io sono andato in giro un po' nel mondo diciamo anche negli Stati Uniti quando le persone sapevano che venivo da Ravenna negli Stati Uniti, ovviamente sto parlando di università mi chiedevano a Ravenna dove c'è il teatro delle Albe con i senegalesi quindi questo si riallaccia alla domanda di prima le dinamiche culturali e Ravenna deve la sua rinascita se vogliamo culturale degli ultimi tempi proprio all'apporto di questi senegalesi che quando i ragazzi, i giovani, perché all'epoca erano giovani delle Albe li hanno visti hanno detto ecco gli antenati che tornano bisogna che e Marco Martinelli dice una cosa molto bella dice si trattava di mettere in scena degli immigrati che mettevano in scena la loro dignità grazie a tutti grazie a tutti